Il fumo si dirada, raccontavo prima durante l'incontro, è un titolo che è venuto in automatico da dentro, come richiamo alla lontana c'è un verso di una canzone degli assalti frontali che recita davanti al fumo della strada la nebbia si dirada, però è una parentela lontana perché è un'immagine che ho avuto immediatamente agli occhi ed fa riferimento sicuramente agli scontri di piazza, al fumo dei lacrimogeni, al fumo delle cose incendiate e quando il fumo si dirada, cioè quando tutto si placa perché è successo, uno ha un modo di vedere quello che rimane sul terreno di battaglia, fa un po' un bilancio. Nella mia vita sono passato un po' dalla militanza quotidiana attiva all'interesse per la cultura che secondo me è un'altra arma indispensabile e quindi c'è stato in parte anche questo passaggio, questo fare i conti con quello che è successo prima e rivendico tutto per carità, però adesso il mio interesse, la mia passione si è spostata sulla cultura con gli stessi presupposti che hanno animato il mio interesse anche per la politica che c'è stato prima, quindi la cultura seguita dal basso e dando voce a chi si muove dal basso. Faccio un esempio per quanto riguarda il cinema, un interesse per esempio per gli esordienti o per i festival, magari quelli più nella provincia, quelli a misura duomo, quelli tematici magari a tema LGBT o a tematica ambientale, in coerenza con quello che è stato, che è il mio percorso. È abbastanza difficile, credo per chi si muove oggi, ricordo sempre che noi quando facevamo dai concerti alle manifestazioni bastava una chiamata il giorno prima e il giorno dopo o in ragazza o al concerto o a qualsiasi altra iniziativa politica eravamo in migliaia e oggi è un po' più complicato. Però ecco, dicevo quanto è importante il modello autogestionario che ha attraversato i decenni e che secondo me è quello migliore in cui tutti parlano, tutti e tutte parlano, tutti e tutte decidono. È il peso che ha la cultura, la cultura come dicevo prima come strumento di liberazione, l'attenzione alla memoria perché è dalle esperienze passate che possiamo apprendere tanto, la memoria è la base dell'apprendimento d'altro canto. Credo che l'auto-organizzazione sia un modello che, come è stato nelle periferie negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta che hanno visto il sorgere dei primi centri sociali nelle metropoli a cominciare da Roma, quello è un modello che continua ad essere funzionante. Con la curiosità e la passione e il lavoro collettivo credo che si possano raggiungere molte cose, molti obiettivi.